Il centro comunale di raccolta si farà quasi certamente nello stesso quartiere ma non nell'area individuata dal comune. Il cambio di rotta è stato annunciato dal sindaco Cannito e dall'assessore all'ambiente Passero al termine del consiglio comunale di ieri, dedicato in larga parte alla discussione sugli ecocentri che nasceranno nella città di Barletta. Per impedire l'edificazione di un centro di raccolta nell'area verde periferica situata tra via Quasimodo e via Palmitessa è sorto un comitato di quartiere che negli scorsi giorni ha consegnato al comune oltre 6.000 firme di cittadini contrari alla nuova costruzione e soprattutto critici rispetto al mancato coinvolgimento degli abitanti della zona. Il dietro front dell'amministrazione spiegano da palazzo di città è dovuto ad un errore tecnico sul terreno tra via Quasimodo e via Palmitessa sussistono infatti vincoli edificatori preesistenti. Il consiglio comunale di ieri è stato un consiglio comunale di grande produttività, è stato un consiglio comunale che unanimemente ha riconosciuto l'utilità dei centri comunali di raccolta e di questo ne siamo ben lieti. È chiaro che all'emergere di alcune situazioni che non erano state considerate precedentemente abbiamo la necessità di rivedere la sua collocazione. Siamo in piena condivisione con la regione ma soprattutto la piena condivisione che vogliamo è con i cittadini perché mai abbiamo pensato di non considerare la loro opinione. La loro protesta siamo certi che diventerà una proposta e sulla base di questo siamo convinti che riusciremo a dotare quel quartiere di un centro comunale di raccolta dalla grande utilità. Il progetto del centro di raccolta era nato sulla base di errori nella vecchia cartografia del PRG mai corretti che destinavano l'area di via Palmitessa ad opere di urbanizzazione secondaria e non a zona residenziale. Noi non lo sapevamo perché abbiamo perseguito il principio della continuità amministrativa perché quel centro di raccolta era stato già identificato, il luogo era stato già identificato dalla precedente amministrazione e su questa linea noi ci siamo mossi. Così come non abbiamo avuto il tempo per dialogare con i cittadini perché avevamo bisogno di certezze sul finanziamento, tra l'altro si trattava di uno studio di fattibilità e non era nostra intenzione assolutamente mancare di rispetto ai cittadini perché questa amministrazione ha fatto dell'ascolto e della partecipazione, sebbene ci siano diversità di vedute sulle modalità di partecipazione, ha fatto un suo principio diciamo amministrativo e politico. Il timore dei cittadini è di ritrovarsi in una discarica a cielo aperto a pochi metri da abitazioni e scuole. Nulla di tutto questo spiega il sindaco Cannito come dimostra l'utilità del centro di raccolta costruito a Parco degli Ulivi che consente agli abitanti del quartiere di liberarsi dei propri rifiuti in orari diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata porta a porta. Questo è uno dei motivi per i quali ci dobbiamo incontrare con i cittadini, dobbiamo assicurarli, dobbiamo spiegare loro l'utilità dei centri, dobbiamo spiegare loro che non sono immondezai, che non sono inceneritori, che non sono luoghi di raccolta e discorie radioattive, cioè c'è tutta una serie di formazione che secondo me va fatta ai cittadini e questo va fatto ovviamente con il dialogo.